Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul 17. E cominciamo con l'aggiornamento dei dati del Gores e vediamo subito come sono andate le cose in queste ultime 24 ore. Poi subito dopo un'intervista con il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Il totale dei decessi è 452, quelli odierni sono 35, età media 79 anni, con il 95% di patologie pregresse, 5 invece le persone decedute fuori Regione. Sono invece 1165 nelle Marche al momento le persone ricoverate a causa del coronavirus, 167 quelle più gravi degenti in terapia intensiva, 315 in semi-intensiva, 523 in reparti non intensivi, 160 in area post-critica e 2086 positivi in isolamento domiciliare. Lo fa sapere il Gores nel consueto aggiornamento quotidiano. Sono invece guariti in 16 e 161 dimessi dagli ospedali dopo un ricovero connesso al Covid-19. In totali positivi al virus nelle Marche sono 3.684, 1.639 in provincia di Pesaro Urbino, 1.060 ad Ancona, 477 nel Maceratese, 246 in provincia di Fermo, 197 nel Piceno e 65 provenienti da fuori dalle Marche. Tra quelli che hanno avuto contatti con persone positive ma non hanno fatto il tampone sono 6.522, quelli in isolamento in casa, 1.677 con sintomi e 4.845 asintomatici, di cui 695 operatori sanitari. In regione sarà disponibile in 72 ore un ospedale da campo della Marina, 40 posti letto gestiti dal personale della Marina e 4 di terapia intensiva, codiuvati da uno staff di medici e rianimatori che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha riservato le Marche dal 2 aprile. La struttura sarà posizionata a supporto dell'ospedale di Iesi per rafforzare la risposta della regione all'emergenza coronavirus e l'impegno a sbloccare l'arrivo dell'ospedale da campo cinese, ora fermo per problemi burocratici in Cina. E come dicevamo poco fa con il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, abbiamo parlato del picco epidemico previsto nei prossimi giorni, un appuntamento al quale non possiamo farci trovare impreparati. Ancora siamo a valori molto alti, quasi 170 posti letto in terapia intensiva raccontano il cuore di questa storia, più di 1100 persone ricoverate nelle nostre strutture e una quantità importante di persone che stanno a domicilio come sottoscritto in quarantena, parliamo di quasi 4000 persone. Una curva che ancora continua a crescere, nella provincia di Pesaro Urbino con una pendenza minore, quindi con un'intensità minore, in maniera piuttosto decisa nell'Anconetano e ancora con valori sostenuti nella parte sud della regione. Ecco perché è difficile una dinamica così particolare dove un territorio è partito molto prima degli altri, ci sono almeno due settimane tra Pesaro Urbino e Ascoli, in termini di differenza temporale nel valutare la cosa, poter dire quando la situazione svolterà. Certo, col passare il tempo diverse cose sono migliorate, la prima che ovviamente la parte sud della regione ha potuto godere per un periodo più lungo di misure restrittive che tengono fermo il sistema e riducono le possibilità di contagiarsi. L'inizio di terapie che si fanno già da casa con la struttura che stiamo mettendo in piedi, di medici che nel territorio andranno a trovare i pazienti positivi e la possibilità di iniziare alcune terapie prima ancora di avere una fase più acuta, più avanzata, ovvero in ospedale. Quindi un quadro che dà delle opportunità in più, ma una curva che continua a crescere. Io credo che almeno fino a metà di aprile continueremo a crescere e allora potremo valutare ancora meglio la situazione se siamo vicini al punto di svolta o ci sarà ancora da combattere con questo maledetto virus. Ecco perché lei insiste su questo ospedale, diciamo da 100 posti letto di terapia intensiva, oltre a quello che è appena stato confermato e che lei ha chiesto questa mattina, che è un ospedale da campo della Marina Militare che verrà credo installato a Iesi. Sì, sono due oggetti molto diversi. L'ospedale da campo serve ad aiutare soprattutto nelle degenze ordinarie. C'è una struttura, quella militare, che aiuterà per esempio un ospedale Covid come quello di Iesi, che è carico in termini di pazienti, perché con sé non porta solo la struttura, ma porterà anche i medici militari, gli infermieri e quindi un sostegno a tutti quelli che stanno lavorando in quella struttura, direi più in generale l'area vasta 2 che sta per affrontare una fase particolarmente critica. Mentre l'altra struttura è per tutta la regione, Civitanova è baricentrica rispetto alla regione Marche, è in una posizione, all'uscita del casello d'autostrada, a tre minuti dall'ospedale di Civitanova, nella fiera, quindi il luogo più facile dove montare una struttura in tempi rapidi ed è una scelta importantissima perché quei 100 posti letto tra terapia intensiva e semi-intensiva saranno necessari nel momento in cui arriveremo al picco, ma continueranno ad esserlo per permettere al sistema di respirare. Voglio fare alcuni esempi. Noi stiamo rimandando ormai da quasi un mese tutta l'attività programmata su quelli che non hanno il Covid. E non è che questa cosa è rimandabile a tempo indefinito. Poter contare su una struttura come quella significa anche poter riattivare magari dopo, nella seconda metà d'aprile, anche quell'attività programmata perché oltre che di Covid si muore anche di infarto e di altre malattie, quindi serve che ci sia una maggiore capacità di rispondere non solo al malato Covid, ma anche agli altri. Ci sarà necessità di continuare a offrire quel tipo di terapia, almeno dalla prospettiva di oggi, perché abbiamo visto che le persone ci rimangono parecchio tempo e per fortuna qualcuno ne esce. Quindi è chiaro che è una strategia terapeutica estrema, ma assolutamente importante. Ed è, dopo aver visto quello che è accaduto Milano, che è riuscito il buon Bertolaso in un paio di settimane a realizzare una struttura da 200 posti, non provarci da noi l'avrei ritenuto un grandissimo errore. Dobbiamo provare fino in fondo, mettere in campo tutto quello che possiamo offrire per i nostri cittadini, per quello che serve, guardando avanti, guardando una curva che cresce, guardando un bisogno che sicuramente avremo. Senta, per quanto riguarda la raccolta dei fondi, a che punto è? 12 milioni servono questi soldi, ma a che punto è la raccolta? Allora, la raccolta fondi procede, ci sono sia soggetti che vogliono donare risorse, denaro, ma anche chi mette a disposizione e vuole comprare direttamente tecnologie, impianti molto costosi che servono alla struttura. Io credo che il combinato disposto di queste due forme di generosità ci permetterà di fare, anche perché la struttura di Bertolazio è estremamente flessibile, non è che per forza vuole avere risorse economiche. Va bene l'uno, va bene l'altro, va bene le risorse economiche, va bene chi mette a disposizione tecnologie che verranno poi utilizzate. Senta, Presidente, è impossibile trovare le mascherine, c'è questa richiesta di tamponi. Ecco, ci può dire se è possibile in qualche modo risolvere anche questo problema visto che l'emergenza ancora durerà a lungo? La situazione dei tamponi, se voi guardate i dati che pubblichiamo tutti i giorni, in realtà siamo riusciti a crescere notevolmente nel numero che vengono fatti. Il piccolo paradosso che abbiamo avuto è che una volta messe in avvio due macchine importanti, una Pesaro, un Ascoli Piceno, in grado di fare 800 tamponi al giorno ciascuna, quindi un'aggiunta di 1600 tamponi, c'è una grossa difficoltà in questo momento a reperire il reagente. Avendo poco reagente, di nuovo un po' come poche mascherine, un po' come poco materiale di protezione individuale, bisogna operare con un ritmo che sia compatibile con le riserve che abbiamo di reagente, soprattutto, sempre di più la tensione forte, riservarlo a quelli che ne hanno un bisogno, chiamiamolo più urgente. È chiaro che risolvendo, speriamo si risolva, che la disponibilità torni ad esserci nel reagente in termini in quantità sufficienti, noi siamo organizzati per poterne fare molti, molto di più. Si sta facendo anche una tecnologia che è stata riconosciuta dalla Food and Drug Administration, un po' l'equivalente dei nostri organi che autorizzano il farmaco in Italia e negli Stati Uniti, sui test sierologici. Questo ci dà un'altra opportunità, quello di giocare una seconda carta, non solo il tampone, ma anche un test che si fa alla classica gocciolina di sangue, per intenderci, che lo facciamo nel diabete o in altre situazioni, è applicato proprio al coronavirus, quindi con la possibilità di determinare la situazione della persona. Già ha fatto un primo acquisto con gara la struttura di torrette, so che si sta attivando anche l'area vasta 1, da questo punto di vista con la collaborazione dell'Università di Urbino per avere degli stili che affidabili e questo darà una mano sperando di recuperare presto comunque anche la questione principale che è quella di avere reagenti. Molti mi chiedono perché abbiamo pochi guariti, perché potendo fare pochi tamponi avendo poco reagente, riserviamo i tamponi a chi deve verificare se è positivo e iniziare le cure. Rimandiamo un po' più avanti il tema dei guariti, ma sappiate che sono già state dimesse e guarite nella nostra regione 175 persone. Quando riusciremo a fare tutti i tamponi ai 175 avremo molti più guariti di quelli che abbiamo oggi. Ho visto comunque nell'area cacciatori anche qui di fianco a noi al Codman già hanno messo la cartellonistica percorso guariti per i tamponi che dovranno fare per verificare. Per essere dichiarati guariti bisogna avere due tamponi consecutivi negativi. Solo che quando si negativizza una persona non è che lo sai, non è una data come la scadenza dello yogurt. Ha una temporalità diversa, quindi in realtà spesso non sono due tamponi, sono tre, quattro tamponi. Sono tanti i tamponi che servono per dichiarare una persona completamente guarita. Siamo in un clima in cui si deve stare a casa, non ci si deve muovere, comunque dobbiamo stare attenti. Abbiamo fatto la scelta di dare la priorità a chi invece deve scoprire se è malato o no e quindi prendere un'altra via. Come dicevo prima, immaginando che il reagente torni ad arrivare in maniera più significativa, a quel punto siamo pronti, abbiamo lavorato per avere tutte le macchine che servono per raccogliere tanti tamponi e poterli processare. Intanto grazie, non le ho chiesto all'inizio come sta, ma vedo che sta bene, quindi non ci sono problemi. Quindi la ringrazio per essere stato con noi, siamo dentro il telegiornale, devo chiudere, ma magari ci risentiamo nei prossimi giorni. Molto volentieri, nei prossimi giorni. Grazie Presidente, buon lavoro. La Regione Marche ha autorizzato per il periodo dell'emergenza anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta a prescrivere l'ossigeno liquido ai malati che abitualmente hanno un consumo gassoso maggiore di 18 mila litri al mese. Precedentemente la possibilità era riservata ai pneumologi. Questa modalità, ha detto Luca Ceriscioli, ridurrà l'immobilizzazione delle bombole e favorirà una maggiore efficienza del servizio di fornitura. Medici, infermieri e 118 in prima linea nella lotta al Covid-19. Oggi vi mostriamo il grande lavoro svolto dagli operatori della Croce Rossa italiana. Il servizio di Simona Zonghetti e Filippo Pucci. Una grande concentrazione nell'eseguire in maniera minuziosa le procedure di sanificazione previste ma con la preoccupazione negli occhi e in attesa che il telefono squilli. Sono loro, gli uomini e le donne che ogni giorno si dedicano alle attività socioassistenziali e di dialisi. Persone pronte a partire a bordo di un'auto o di un'ambulanza per portare farmaci nelle case di chi lo richiede e per trasportare persone potenzialmente contagiate dal Covid-19. E ci stiamo dirigendo nella sede della Croce Rossa di Fano perché oggi vogliamo farvi conoscere alcuni degli eroi che si occupano anche dell'emergenza coronavirus. Noi abbiamo il discorso dei trasporti ma sono trasporti quelli programmati di routine e altri trasporti che ci vengono dati per persone che sono dimesse e che vengono mandate a casa quindi sono dimissioni. Di persone che non sono più contagiati? Qualcuna è anche positiva a Codive però le disposizioni che ci vengono date sono persone anche asintomatiche. gli operatori in ospedale fanno la loro parte ne fanno una gran parte sono veramente eccezionali noi cerchiamo da fuori di dare una mano in quel che possiamo dare per alleviare le sofferenze di chi in questo momento è isolato non vede le famiglie ci sono molti anziani soli che prima contavano sui figli per avere le medicine per avere una parola a volte si sta anche solo al telefono per parlare con loro oltre alle tante difficoltà a cui devono far fronte in questa delicata fase sanitaria si aggiunge anche quella di non avere mezzi sufficienti e idonei a loro disposizione così per continuare ad aiutare la popolazione il comitato fanese della Croce Rossa ha pubblicato su Facebook tutte le indicazioni per ricevere supporti e donazioni purtroppo i mezzi non ci bastano poi l'altro giorno purtroppo una macchina ci si è rotta quindi siamo a meno di una macchina non riusciamo comunque sia a seguire tutto quanto le richieste delle persone che hanno bisogno di spesa che hanno bisogno di medicinali e avremo bisogno anche di una macchina per pulire i mezzi per disinfettarla ad ozono mezzi mancanti ma anche emozioni da gestire insieme a Francesca tutti gli operatori di cui 8 dipendenti e 110 volontari sono continuamente esposti al rischio di contrarre il virus ma questo non li fermerà dall'essere sempre in prima linea per aiutare chi si trova in difficoltà parliamo di passare questo brutto momento andiamo avanti insomma per la cittadinanza per la gente e cerchiamo di fare il meglio ecco le nostre famiglie sicuramente sono anche preoccupate come tutti come tutte le famiglie una situazione un po' delicata per tutti quindi cerchiamo che ci desse una mano anche il buon Dio che ci aiutasse un po' a tutti e poi andiamo avanti ed è morto questa mattina Giorgio Scrofani 56 anni autista soccorritore del 118 che prestava servizio alla Potes Calcinelli di Colli al Metauro in passato aveva lavorato anche alla Potes di Fossombrone il 16 marzo era stato ricoverato perché positivo al coronavirus era stato intubato subito in emergenza per una brutta polmonite bilaterale negli ultimi giorni la situazione si è complicata non lasciandogli scampo il 56enne è il quinto soccorritore del 118 a morire in Italia dopo il diffondersi del coronavirus era ricoverato all'ospedale di Pesaro al comune di Fano sono stati assegnati 322 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà sentiamo i particolari nel servizio di Lino Balestra in queste ore tutti i comuni d'Italia sono alle prese con i fondi messi a disposizione dal governo per fronteggiare il disagio sociale di molte famiglie in questa fase dell'emergenza ed evitare risvolti tragici come rivolte popolari o saccheggi ad ogni comune in base a una serie di criteri sono state assegnate cifre diverse a Fano sono destinate 322 mila euro una cifra importante che noi utilizziamo da subito e siamo già al lavoro per definire lo strumento e i parametri per aiutare le famiglie e le persone singole in difficoltà questa mattina in una riunione di giunta amministrazione comunale e responsabili di ambito hanno definito le modalità di intervento che dovrebbero approssimativamente riguardare un migliaio di nuclei familiari fanesi abbiamo già individuato una prima fascia che sono quelli già noti che hanno già rapporti di aiuto con il nostro assessorato alle politiche sociali e una seconda fascia che ha una situazione diversa causata perché magari ha avuto un'interruzione di lavoro o ha dovuto cessare un'attività e non è in grado di andare avanti in questa fase per quello che riguarda la prima fascia interveremo direttamente noi in quanto sono già noti e conosciuti all'amministrazione per quello che riguarda la seconda fascia invece verrà fatta un'istanza su dei canali che stiamo predisponendo l'obiettivo è quello di intervenire per la prima fascia entro questa settimana quindi entro venerdì per la seconda fascia nella settimana successiva per chi rientra nella prima fascia quindi non dovrà essere presentata alcuna domanda sarà un incrocio di dati tra i servizi sociali che già seguono persone in difficoltà e ufficio scolastico attraverso gli sgravi per le rette scolastiche che creerà così l'elenco delle persone destinate che saranno circa 170 famiglie per la seconda fascia invece le persone che vorranno accedere ai fondi dovranno presentare una domanda su una piattaforma online nel sito della comune o in caso non si possegano strumenti informatici verrà creato un numero telefonico dedicato con un operatore che raccoglierà le domande le cifre seguendo anche le indicazioni del lanci e degli altri comuni marchigiani saranno di circa 150 euro per capofamiglia e 50 euro per ogni componente familiare fino a raggiungere un massimo di 350 400 euro a nucleo sono esclusi da questi elenchi coloro che già ricevono un aiuto di stato come cassa integrazione o reddito di cittadinanza a breve verrà anche definita la modalità di erogazione di queste somme che potrebbe avvenire come già accade da 4-5 anni attraverso i voucher che dovranno essere spesi però esclusivamente per generi di prima necessità ma sono al vaglio anche altre possibilità come caricare la somma direttamente sulla tessera sanitaria che diventerebbe di fatto in questo caso come un bancomat come già avviene da tempo in altri comuni d'Italia come quello di Cesena e altre 42 persone sono state denunciate ieri per aver violato le misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza coronavirus lo ha annunciato la prefettura di Pesero e Urbino che domenica scorsa ha controllato in totale 544 persone la multa prevista per i trasgressori lo ricordiamo va dai 403 mila euro nella stessa giornata sono stati controllati anche 319 esercizi commerciali ma non sono stati riscontrati illeciti il presidente ed il vicepresidente di TODS Diego e Andrea della Valle hanno deciso di rinunciare ai loro compensi per l'esercizio 2020 lo comunica la società annunciando lo stop ai dividendi ed il rinvio dell'assemblea degli azionisti a giugno decisi oggi dal consiglio di amministrazione domani alle 12 in tutta Italia saranno esposte sulla facciata del comune la bandiera a mezzasta e verrà osservato un minuto di silenzio sarà il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari per abbracciarci idealmente tutti per essere di sostegno l'uno all'altro come sappiamo fare noi sindaci lo dichiara Antonio De Caro sindaco di Bari e presidente del Lanci l'associazione nazionale dei comuni italiani che ha aderito all'iniziativa lanciata dal presidente della provincia di Bergamo Gafforelli per i sindaci del suo territorio e l'ha allargata a tutto il paese è stata annullata definitivamente la Colle Marathon la Maratona dei Valori che si corre da Barchi a Fano e che era prevista per il prossimo 3 maggio dopo la sospensione e l'ipotesi di rinviare tutto a settembre gli organizzatori sono stati costretti ad annullarla a causa delle numerose incognite ancora in campo prima fra tutte quella di scegliere una data che non mettesse in difficoltà le altre realtà podistiche locali che in autunno hanno già in calendario altre gare per gli oltre 500 atleti che già si erano iscritti il comitato organizzatore fa sapere che sul sito della Colle Marathon sono segnalate le modalità di rimborso mentre per i fedelissimi l'appuntamento è per il 2 maggio 2021 come sempre con arrivo previsto al Pincio lei si chiama Camilla Cicoli ed è la figlia del primario di ginecologia e ostetricia di Fano Claudio Cicoli si è laureata Camilla in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Chieti e Pescara Gabriele D'Annunzio discutendo in modalità telematica la tesi dal titolo impatto del fumo passivo sui valori dell'ormone antimulleriano un indicatore di riserva ovarica Camilla subito dopo la discussione ha dichiarato di essere orgogliosa di poter far parte di questo esercito di guerrieri che mai come in questo difficile momento sta dimostrando tutta la forza e la vocazione riassunte nel giuramento di ippocrite l'arrivo del coronavirus ha modificato i nostri stili di vita anche i rapporti con con l'esterno che sono ormai ridotti davvero al minimo e anche i compleanni si festeggiano in casa rigorosamente con la famiglia così come ha fatto oggi la piccola Perla Seretti che ha compiuto otto anni e non era soltanto con i genitori perché alla fine con la tecnologia è riuscita a raggiungere anche altri amici e guardate e allora come ha festeggiato questo compleanno così diverso e che sicuramente la piccola Perla e i suoi genitori ricorderanno senz'altro e con questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.45 con Occhio e Giornale arrivederci desidero tanti auguri a te tanti auguri a Perla tanti auguri a te a te a te a te Grazie.